Ecco, siamo in un supermercato americano, Walmart, ecco gli americani a casa cosa possono portarsi con 299 dollari, poco più di 260 euro, comprese taxe, intero cabinato dell'Arcade 1UP, questo a Galaga oppure un bel cabinato con sopra già preinstallato tutta la saga di Final Fight oppure questo che ha sempre Final Fight, questo che ha Pac-Man e questo qua come vedete ha Mortal Kombat, voi lo portate a casa, lo assemblate, ha già all'interno un 17 LCD tutto quanto incluso, dimensioni praticamente come i veri coin-off, qua c'è la versione con Rampage ovviamente già i giochi inclusi come c'è scritto, bellissimo, 299, invece qua in Italia ti ammazzano per delle puttanate che non sono neanche autorizzate e ti fanno giocare con dei bootleg di merda oppure con dei giochi scaricati da internet questa è la versione con City Fighter 2 Champion Edition, vi giuro che potessi solo trovarli e portare in Italia lo farei per metterla in quel posto a chi ci prende in giro con dei cabinati fatti male tra parentesi ce n'è uno montato solo che non posso riprenderlo dove ci sono tutti quanti i materiali esposti i materiali sono straordinari, addirittura questa è la protezione in gomma identica ai veri coin-off 299 da Walmart, bellissimo e questo qua c'è Final Fight 1944, Ghost in Ghost e altri